Da prima la sfilata dei tamburinari sicani di Ribera, poi l'apertura dell'area dedicata alle degustazioni con l'accensione dei caratteristici forni in pietra e per finire tante risate e divertimento. Ha preso il via, ieri sera a secca grande, la nona edizione del Pizza Fest, promossa anche quest'anno dall'amministrazione comunale. In serata è stato lo spettacolo Sicilia Cabaret Live Show, ideato dal duo comico Tony Matranghe ed Emanuele Minafò, a divertire il numeroso pubblico presente nella località balneare riberese. Uno spettacolo all'insegna della comicità e del divertimento che ha visto alternarsi diversi comici sul palco situato sul lungomare. Casti di Sicilia Cabaret al completo questa sera in occasione della serata di apertura del Pizza Fest? Al completo mai perché qualcuno muore strada facendo, abbiamo rischiato su Minafò tantissimo. Io ce la faccio sempre ma all'ultimo. C'è da dire che lui non è il primo con cui ho iniziato, questo è quello che vendono su Ebay adesso, 6,50 euro comprese spese di spedizione. Il primo Minafò è morto dopo tre anni mi pare. Ma poi ho visto che sono nuovo, me lo vuole fare che c'è un pezzo di cello e fanno ancora... L'etichetta ancora giù. L'etichetta ancora giù. Questi cugini a Palermo hanno fatto furore e continuano a fare furore. Ma speriamo che finiscano al più presto tra l'altro. Poi lo diciamo, io ancora non l'ho inzuppato sto biscottino però. Cioè le gente lo sape, questo è ridere. Ah ok, ok. Io pensavo che portava bene sta cosa invece. Vabbè è un successo incredibile, è inaspettato, si canta in tutta Italia ed è diventato un modo per dire una cosa tra virgolette volgare in maniera carina e simpatica. Buonasera, io sono venuto qua, vedi tutti questi papà, sono preoccupati, dovete stare tranquilli se rimanete a casa soli con i propri figli. Sì, perché l'importante è avere tanta pazienza, proprio come ce l'ho io. Non solo spettacoli e cabaret, al centro della manifestazione c'è la pizza riberese preparata nei caratteristici forni in pietra collocati nell'area food e dove già ieri sera, in occasione della serata inaugurale, sono state sfornate centinaia e centinaia di pizze. Demetrio Taddei, pizzaiolo di Ribera, innanzitutto da quanti anni presente al Pizza Fest? Cinque anni, faccio il Pizza Fest, ho fatto il primo anno, il secondo, il terzo e il quarto e ora sto facendo il nono Pizza Fest. È una bella situazione, è bellissima, c'è una bella squadra, mi trovo bene con tutti, è una bella situazione a Ribera ogni tanto, un po' di eventi. Quali sono le caratteristiche di questa pizza riberese che è un po' la protagonista, se vogliamo, di questa manifestazione? La caratteristica della pizza nostra è innanzitutto l'impasto, l'impasto è la base, 12 ore di lievitazione, si impassa la mattina, si parla con questa pasta eccezionale e poi gli ingredienti, la salsa preparata prima, la mozzarella prima, tutte cose. C'è una linea, un tunnel che abbiamo trovato in simpiosi, ma tutto va bene, tutto bene, bene, bene. E c'è la soddisfazione del sindaco di Ribera, Carmelo Pace, per come in questi nove anni sia cresciuta e si sia affermata sul territorio. Una manifestazione ideata e voluta proprio da lui. È una manifestazione che è cresciuta, è cresciuta grazie a tutti gli sponsor, grazie ai cittadini di Ribera, ma fortunatamente non soltanto grazie ai cittadini di Ribera, ma a tutti quelli del comprensorio. È un evento dove il territorio si identifica con l'evento e l'evento col territorio e noi siamo orgogliosi. L'hai detto poco fa, è la mia ultima edizione da sindaco e sono orgoglioso, nonostante le critiche che è giusto che ci siano, nonostante tutto sono orgoglioso di quello che assieme alla mia maggioranza ho fatto per questo evento. Lo ripeto sempre ogni anno, fare un evento ad agosto in piazza ha un senso ed è facile farlo riuscire. Fare un evento a settembre vi assicuro che è molto ma molto più difficile. Fino a qualche anno fa vedere Secca Grande con tutte le luci accese, le case aperte, i locali che lavorano, il 15 settembre era un'utopia. Adesso è diventata una realtà, è l'auspicio. Mi auguro che il prossimo sindaco, chiunque esso sia, la prossima amministrazione, possano continuare su questo evento, ma non perché debbano fare un atto di prageria nei confronti di Carmelo Pace, che sarebbe veramente ridicolo, ma perché ritengo che Secca Grande, Ribera, il territorio meriti questo evento. Sicuramente è andata al di là delle migliori aspettative, una serata di grande divertimento che il pubblico ha apprezzato. Anche le pizze sono andate benissime, lo street food, ho parlato un po' con i vari sindisti ed è andato veramente alla grande. Ma tu l'ha provato mai l'orgasmo? No, veramente mi hai trovato sempre buona con l'age. A modernità, a ma bellaviglietà. Valermo, ciao Catania, ciao Sicilia, ciao, ciao, ciao. Io lì a Milano sono apprezzato e non voglio più tornare. Ciao, ciao.